buongiorno a tutti ben ritrovati per questo ultimo appuntamento del ciclo di seminari pensare l'architettura sono molto felice perché appunto il ciclo si chiude con la lezione della professoressa loredana ficarelli che qui accanto a me nell'aula del dicare insieme agli studenti del primo anno del corso appunto di teoria dell'architettura ci presenterà appunto la sua lezione tra pochissimo intitolata il progetto architettonico come strumento di conoscenza due parole per presentarla dico ai ragazzi appunto del primo anno che la incontreranno in occasione del quarto anno nel laboratorio di progettazione perché la professoressa loredana ficarelli è professore ordinario appunto di progettazione architettonica ed urbana presso il nostro dipartimento appunto di cara al politecnico di bari dove ricopre anche un ruolo importante che quella è quello appunto di prorettrice del nostro ateneo inoltre del dicare è stata anche coordinatrice del corso di laurea in architettura dove insegna appunto dal 1999 dedicandosi alla sua ricerca con missioni scientifiche svolte in italia all'estero in particolare in egitto turchia siria spagna cina missioni e ricerche orientate verso lo studio dei caratteri dell'architettura e del paesaggio mediterraneo l'attività di ricerca è connessa alla partecipazione a diverse ricerche nazionali e internazionali a mostre seminari documentata da diversi saggi pubblicati in riviste atti di convegno e monografie cito soltanto alcune delle sue pubblicazioni come appunto ripoliba 2013-2019 progetti per gli spazi dell'università il colore della terra omaggio ad aldorossi i caravanserragli architetture commerciali nei paesaggi mediterranei lo spazio domestico mediterraneo una casa per il cairo architetture rurali nei paesaggi dell'alta murgia nell'attività di sperimentazione progettuale cito appunto alcune realizzazioni come il progetto per il recupero e la valorizzazione dei siti archeologici a tricarico la valorizzazione dei siti archeologici l'ampliamento di attrezzatura turistica montecroccia ancora l'allestimento del museo archeologico a rutigliano e molfetta il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex frantoio entini a corigliano calabro il progetto di riqualificazione dell'ex laboratorio sala alta tensione da destinare a spazi culturali e di rappresentanza presso il campus la professoressa ficarelli è fortemente impegnata nelle attività di terza missione sul territorio sia provinciale che regionale e nazionale offrendo un contributo fondamentale per il rafforzamento appunto dei legami con il territorio da parte del nostro Ateneo anche qui cito soltanto alcuni lavori condivisi con per esempio la regione Puglia come lo studio finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dei territori interessati per la riqualificazione ambientale e paesaggistica del canale reale ancora la convenzione con la regione Puglia per la redazione delle linee guida relative al quadro di assetto dei tratturi con il comune di Brindisi per le linee guida relative al piano urbano di mobilità sostenibile il PUMS appunto ancora la convenzione con gli uffici giudiziari di Bari appunto il Politecnico per la gestione delle strutture dell'amministrazione giudiziaria il tavolo di di generazione urbana per la riqualificazione del lungomare sud di Bari ancora la professoressa Figarelli ha sempre ricoperto ruoli e incarichi istituzionali impegnandosi con passione ed entusiasmo per la crescita dell'Ateneo e del nostro dipartimento diventando così un docente di riferimento per l'intera comunità del Politecnico per il quale si impegna da anni con grande spirito di servizio e anche per questo il mio ringraziamento personale e penso anche a nome di poter parlare a nome di tutta la comunità del nostro dipartimento e del nostro Ateneo e mi piace anche ricordare come io stessa nel corso della mia formazione abbia condiviso con lei gran parte delle mie ricerche appunto condividendo anche missioni scientifiche molto stimolanti in giro per il Mediterraneo che spero appunto ora dopo la fine del lockdown possano riprendere a pieno ritmo come già sta succedendo anche con l'attivazione di nuovi laboratori di laurea che come sempre ci accomunano per questo interesse appunto per casi studio che si collocano in diversi appunto paesi del Mediterraneo. Io le lascerei subito la parola appunto per la sua lezione dedicata al progetto architettonico come strumento di conoscenza e quindi le passo subito la parola. Mi sentite? Io devo alzare il volume mio. Può parlare? Mi sentite da casa soprattutto? Sì. Allora innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti. Oggi non mi tocca diciamo presentare nessuno e tantomeno ovviamente me stessa soprattutto perché la processa turchialulo non solo come dire allargamente descritto le mie attività e in realtà anche lodandole e questo credo che sia anche un po' eccessivo. Cioè in realtà io svolgo un'attività di docente un'attività che diciamo che la mia la mia passione non è altro che affrontare ogni giorno il problema che mi sono scelta come stile di vita e come programma diciamo della mia vita. Cioè quello di dare e ricevere costantemente. Credo che questo dare e avere all'interno dell'università e della scuola sia una una delle condizioni necessarie affinché questo non diventi un puro lavoro e che ogni mattina io possa decidere con gioia diciamo di di tornarvi. Eh questa premessa la faccio adesso così evitiamo diciamo come dire i finali eh commoventi. Io devo ringraziare la professoressa Turchiarulo ma non tanto per la capacità che indubbia di tenere un corso diciamo di teoria ma di svilupparlo a questa maniera. Gli ospiti che voi avete eh potuto eh ascoltare non sono casuali sono la ricerca teorica cioè sono quel quel fare diciamo teorico quell'attività che è necessaria per poter poi affrontare i problemi legati al progetto. Ehm condivido un attimo il powerpoint. Ehm gli ospiti che si sono eh alternati quest'anno e potrei leggerli tutti perché nella lettura diciamo della delle loro presentazioni e dei loro nomi almeno per quello che mi riguarda e quindi ogni volta faccio questo esercizio sono non legati da tra di tra di loro per eh per età diciamo per scuola eccetera ma ognuno di loro si è concentrato nella definizione del termine teoria e poi lo ha sviluppato con un esercizio diciamo che mostrasse questo significato. Ho messo la prima immagine che la scuola di Atene perché eh spesso questa icona rappresenta e viene e viene diciamo ehm rappresentata perché sotto questo grande arco dipinto da Raffaello eh ci sono i saggi eh coloro che sono portatori di sapere si vede sì. eh al centro diciamo di questa di questa immagine eh troviamo Platone e Aristotele uno col braccio in altro e l'altro col braccio diciamo in basso per rappresentare la la visione cosmica è legata diciamo all'universo del primo e quella invece legata ai fenomeni diciamo contingenti del secondo. eh ovviamente Apollo e Minevra eh completano questa immagine ovviamente per ragioni come dire estetiche e di scelte l'immagine di Raffaello è ben più ampia e all'interno delle lunette ci sono e quindi io invito a tutti quanti ovviamente lo conoscete perché questa è una conoscenza che vi viene diciamo dalle scuole ma dovrebbe essere ancora presa dovrebbe essere rinnovata di volta in volta eh ci sono così le sapienze eh ci sono le 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 idee della conoscenza e che cosa voglio dire che tutti i nostri autori questo del primo eh del primo turno cioè quello dell'anno scorso ma anche del secondo eh che ovviamente si concluderà in una pubblicazione perché questo poi darà come dire il via a una serie di stimoli e di approfondimenti da parte di tutti voi io spero e mi auguro c'è solo qua dentro io l'ho immaginato in questa grande stanza cupolata cioè all'interno di una virtuale stanza dove ognuno ha disposto la sua ragione riguardo al tema che la processa Turchia Rulio ci aveva offerto eh questo questa io la chiamo semplicemente comunicazione è è organizzata in tre parti la prima faremo alcune considerazioni generali molte delle quali le avete già ascoltate la seconda parte invece che è a cura di Valentina Vacca che sta che è qui vicino a me che leggerà diciamo alcuni passi e alcune questioni legate ai trattatisti poi casomai spieghiamo anche perché facciamo questo eh la terza parte invece proviamo ad analizzare eh non è una una consecuzione diciamo c'è la prima parte e la seconda non sono propedeutiche alla terza ma proviamo nella terza parte insieme a tutti quanti voi a interpretare due figure significative in eh distanti tra di loro di diversi diciamo anni Palladio e Le Corbusier per concludere con un'opera di Le Corbusier io spero a voi molto nota ma che ci mostrerà come eh anche lo stesso Le Corbusier che fa parte di quella definizione del movimento moderno che rinuncia alla tradizione rinuncia alla la condizione cosiddetta storica vediamo come invece Le Corbusier è uno tra quelli che questa tradizione questa condizione della ricerca diciamo storica non solo eh la la prende di questa si nutre ma addirittura la eh riporterà li li modificherà quei paradigmi eh restituendo a noi un'architettura cosiddetta moderna quindi eh la prima parte io assido ancora una volta eh a Dante Alighieri le l'incipit diciamo dell'introduzione e quindi con le parole di Dante Alighieri che dice considerate la vostra semenza fatti non foster viver come bruti ma perseguir virtù e conoscenza questi sono i versi del canto ventiseiesimo dell'inferno eh ovviamente non devo spiegarvi che la Divina Commedia è una delle opere diciamo più importanti della letteratura italiana ma ho scelto questo canto e ho scelto questa frase perché eh in realtà ehm in questo punto Dante racconta alcune ehm manifestazioni diciamo di Ulisse e soprattutto Ulisse quando eh spinge il suo volo spinge diciamo le sue navi verso la le le colonne d'Ercole eh userò molto spesso le metafore in questa comunicazione che cosa voglio dire che ehm aver conoscenza significa poter barcare quelle 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 colonne significa poter eh gioire diciamo non di informazione ma di ordinata conoscenza e noi proveremo a fare questo quindi questo tanto questo canto dantesco che incarna poi sostanzialmente la figura positiva diciamo dell'uomo ehm qualcuno ci segnala che non si sente dicevo qualcuno ci segnala che non si sente in remoto qualcuno ci può dare conferma del contrario sentite la voce della professoressa Ficarelli la mia sì la sentite quella della professoressa Ficarelli mi sentite meglio adesso? Qualcuno eh ci scrive che la sente quindi probabilmente c'è un problema con i singoli pc bene grazie per chi ha risposto ecco quindi dopo che abbiamo come dire deciso di superare le colonne di Ercole ehm alcune definizioni una eh di Paul Valéry nell'introduzione al metodo di Leonardo da Vinci che recita l'uomo universale è abitato da una folla di esseri eh da una folla di ricordi possibili e dalla forza di riconoscere entro alla distesa del mondo un numero straordinario di cose distinte e di sistemarli in mille modi sostanzialmente ha riordinato la frase che ho appena diciamo enunciato nella sua memoria i volti sono ordinati mentre le variazioni si avvicendano da una fisionomia all'altra cioè sostanzialmente stiamo dicendo che questa conoscenza che ci permetterà poi alla fine non come strumento non come metodo ci consentirà di articolare un ragionamento per riconoscere un progetto e per riconoscere un'architettura ha bisogno come dire di un ordine ha bisogno di una condizione di necessità a questa ovviamente si associeranno tutte quelle condizioni che sono le variabili ma lo stesso palladio parlava di giudizio cioè di quella condizione che non è codificabile e che rende l'architettura l'una diversa dall'altra la conoscenza si affida alla memoria e qui torno ancora con il valore diciamo della della memoria cosiddetta storica ma non è una storica antica è una storica sedimentata cioè una memoria che ha avuto una ragione nel senso della sua presenza ancora oggi noi dobbiamo riconoscerla non è un'anticalia non è ciò che è antico ma ciò che io riconosco utile su cui oppoggiarmi la conoscenza si affida alla memoria dalla memoria viene influenzata ogni creazione anche la più originale quella che sembra o crede di essere completamente staccata dell'esperienza e questo è rogers la scrive nel 1964 a più nel senso della storia durante una sua e con comunicazione alla scuola politica al politecnico di milano non vado avanti eh qui eh per memoria ho messo alcune delle rappresentazioni delle colonne d'Ercole sapete benissimo che in realtà non si sa esattamente dove fossero forse a Gibilterra forse insomma altrove e quindi non c'è una rappresentazione vera quindi ehm Fortoghesi quando inizia la sua presentazione nel marzo 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 eh la prima cosa che fa è spiega l'etimologia della parola teoria eh il primo pezzo teor significa teatro oria significa osservare vedere e quindi mettere in qualche maniera in scena eh il rapporto tra la teoria diciamo e la pratica sostanzialmente cioè la spiegazione della teoria e della pratica che da qui eh da questo momento in poi cominceremo a trattare è spiegata ancora una volta con una metafora da Karl Martiari in questo testo che tra l'altro quando vi faccio vedere i testi vi consiglio anche di comprarli eh se non altro di toccarli perché come diceva Portoghesi la teoria è prendere il libro e toccarlo potete toccarlo anche in maniera virtuale non è interessante ma toccarlo significa in qualche maniera trovare ciò che cercate e non il contrario perché se trovate mentre state cercando vuol dire che avete ordinato vuol dire che avete un pensiero e questo pensiero deve essere radicato e deve essere come dire spiegato dai giganti che vi hanno preceduto io sto facendo esattamente questo mi sarebbe piaciuto diciamo farlo in piedi prendendo il libro e leggendo ma ovviamente i mezzi tecnologici ancora non ci consentono ma no no sto comoda sto comoda allora Martiari per spiegare questa condizione usa questa metafora della centina e dell'arco questo libro è tutto teorico è tutto legato alla spiegazione insomma della teoria dell'architettura molto articolato molto complesso ma anche molto didascalico quindi anche semplice nella lettura e mi dice mi è capitato di paragonare la relazione che esiste tra la centina e l'arco con quella che si stabilisce tra la teoria e la pratica nel campo del progetto di architettura come la centina voi avete presente diciamo avete fatto già durante le vostre esercitazioni ma insomma anche di tecnologia di materiali la centina è uno strumento è una struttura che serve per poter ordire i conci che andranno lì a formare l'arco e quindi la centina che è la teoria che si regge che regge diciamo la parte dell'arco non deve essere altro che la costruzione ausiliaria dopo aver permesso dopo aver permesso di formare l'arco si smonta e scompare discretamente affinché questo possa essere visto in tutto il suo splendore quello che noi vedremo è il progetto quello che noi vedremo è l'arco nella sua dimensione nella sua forma nella sua estensione nella sua matericità scomparirà quella centina che però è stata necessaria alla sua costruzione quindi la teoria sostanzialmente è costruire delle mappe è costruire un atto è un pensiero è mettere come dire in ordine e soprattutto discutere di architettura e questo corso ha fatto questo prende forma ovviamente da tutte le lezioni che abbiamo fatto dai trattati dai libri dai progetti anche quelli che non sono direttamente orientati alla costruzione mi riferisco per esempio ai concorsi e ai progetti che sono a volte delle esercitazioni come quelle che fate voi nella scuola vuol dire scegliere i nodi riconnessi alla formazione del progetto il rapporto tra la progettazione della composizione quindi perché ci sia una teoria e la teoria la facciamo ogni giorno la facciamo sempre bisogna che ognuno di voi si alimenti e crei un giudizio critico un giudizio critico che vuol dire che avete la capacità di dare spiegazioni e motivazioni a quello che fate e a quello che viene quello che rappresentate cioè trovare le ragioni del progetto cioè quando il progetto vede la luce e vede la chiarezza questa chiarezza non è una la discussione diciamo sul progetto a vari livelli quello di cui stiamo parlando è il senso di questo del progetto quel senso che ci darà poi l'abilità e anche la possibilità di dire come dice l'OS quando vede una parte diciamo di terra foggiata qui è sepolto qualcuno e si commuove quindi la teoria è un pensiero necessario per uno sviluppo consapevole diciamo del progetto prima di passare la parola a Valentina volevo fare diciamo alcune raccomandazioni a proposito della conoscenza cioè vorrei affermare prima di tutto come ho già detto la necessità della teoria nella scuola e dire che c'è una grossa differenza tra cognizione e conoscenza tra ricettività e narratività tra deformabilità e formazione sperando appunto che le cose che sto per dire non ricadano in una retorica sciocca o banalmente diciamo scolastica una necessità che dovrebbe impedire di pensare che l'informazione non trasforma e non annuncia nulla è una citazione di Campobay di cui poi al termine vi leggerò diciamo altri passi il modo in cui viviamo diciamo è stato come dire da un certo momento in poi interrotto da una trattazione cosiddetta tradizionale quella che si affida appunto ai giganti e invece ha consolidato un'idea che il futuro sia legato le cosiddette google scienze che significa sostanzialmente assumere l'informazione che ci viene prodotta facilmente la usiamo tutti questo non è un discrimine rispetto alle google scienze ma è un invito a a fare di questo invece una costruzione cioè una costruzione che è vostra che è individuale e e che questo appunto non è una facilitazione soprattutto quando i progetti assumono declinazioni come eco green e potrei qui andare avanti cyber blog insomma e tutto quanto cambiando cosiddetto andando verso questo paradigma liquido che che definisce il tutto e il niente gate diceva che il il più folle di tutti gli errori quando le giovani teste si immaginano di poter perdere la loro originalità nel riconoscere la verità il mio tentativo oggi è di parlarvi non come sommo filosofo ma come architetto non digiuno di lettere e quindi io adesso siccome non dobbiamo digiunare e ci dobbiamo nutrire passerei la parola a Valentina Vacca che per noi diciamo leggerà alcuni dei trattati più importanti anche in questo lei ha fatto una scelta che adesso vi spiegherà e vorrei affidare questo ancora una volta un incipit poi ti do veramente la parola e e e vi leggerò diciamo due frasi di Vitruvio che probabilmente Valentina ripeterà però è giusto che così sia e Vitruvio dice quando si vedrà un'opera magnificamente compiuta saranno giustificate le spese di ogni magistratura se appare l'abilità strutturale si loderà il costruttore per la sua esattezza quando penserò quando si sarà presentata decorosa la bellezza di proporzione e simmetria la gloria incoronerà l'architetto tutto ciò riesce bene se costui non rifiuterà di accettare parere e consiglio dagli operai e dai privati ognuno infatti non è soltanto agli architetti può avere la nozione di ciò che è bene adesso mi riferisco che tutti parlano di architettura ma tra il privato e l'architetto la differenza è questa il privato non vede l'opera compiuta non sa quello che dice non lo prefigura non lo non lo non lo prevede non lo rappresenta l'architetto invece ha nel cervello l'opera anche prima che sia incominciata e ha già stabilito con precisione come sarà per bellezza per uso e per decoro adesso veramente passo la parola a Valentina Vacca ringrazio la professoressa per ringrazio la professoressa per questo incipit e la ringrazio anche per aver voluto che io partecipassi a questa lezione conclusiva del corso di gira dell'architettura e quindi ringrazio anche la professoressa Turchia Rulo per avermi ospitato qui oggi in realtà la mia parte di oggi all'interno di questa comunicazione risponde a una sollecitazione che vi è stata data è stata data a noi tutti in occasione della prima lezione di questo corso dal professor portoghesi che toccando con mano i trattati del più importanti che hanno costruito la sera dell'architettura da Vitruvio a partire da Vitruvio fino ai giorni nostri e ci ha invitato nuovamente a prendere contatto con questi con questi testi e a continuare a praticarli a leggerli anche oggi per il significato che questi rivestono anche nel fondamento della teoria dell'architettura anche oggi quindi ho risposto a questa sollecitazione del professor portoghesi attraverso la un filo di Arianna che in realtà mi è venuto da un testo che è stato sicuramente importante per la costruzione di questa lezione che viene diciamo da un teorico Cruft che studia la storia delle teorie architettoniche da Vitruvio al Settecento e appunto elabora un excursus che sicuramente insomma è stato molto utile a trovare una traccia all'interno di questi trattati rispetto alla traccia che ho trovato all'interno di questi testi per poter come dire fornirvi una modalità mia personale che invito e invitandovi insomma a provare a fare lo stesso con i trattati che insomma vi verranno proposti o con altri che avrete modo di incontrare lungo il vostro percorso la traccia che io personalmente ho seguito è stata quella di ritrovare all'interno di un sistema di organizzazione che tutti i trattati utilizzano a partire appunto dal trattato di Vitruvio che è quello dell'indice il sistema dell'indice attraverso questo sistema che è un grande schema anticipatore di quelli che saranno gli argomenti del trattato e di come l'autore ha inteso organizzarli all'interno del proprio volume seguendo attraverso la traccia dell'indice in realtà è possibile fare una serie di considerazioni che sicuramente insomma ci permettono di costruire la nostra conoscenza trovando uno scheletro all'interno del quale inserirci e quindi all'interno del quale trovare connessioni anche tra trattati che nel tempo si sono succeduti hanno parlato tra loro e hanno interagito anche a distanza di secoli come vedremo da quale trattato si diciamo poteva avere avvio questo questo percorso sicuramente dal primo trattato di architettura per come lo intendiamo classicamente che è il trattato che voi avrete imparato a conoscere diciamo abbastanza bene nel corso di questo di questo anno che è il di architettura libri decem di vitruvio questo trattato viene scritto da vitruvio e dedicato direttamente alla persona di augusto sicuramente diciamo per questioni legate alla volontà di ringraziarsi l'imperatore ma anche per intrattenere in una fase di prologo un dialogo diretto con l'imperatore infatti vitruvio come diciamo vi scrive in questa vi riporto dal libro nella prefazione si rivolge ad augusto dicendo che la sua opera che anche in altri passi del testo definisce la prima opera organica che tratta del tema dell'architettura quindi la prima sistematizzazione di un bagaglio di conoscenze che derivava anche chiaramente da tutto quello che tutti quelli che erano testi precedenti già circolati nella cultura greca o comunque descrizioni di opere della del periodo greco che già diciamo avevano circolato in precedenza raccoglie questo bagaglio al fine di costruire un sistema all'interno del quale collocare tutto quello che ha a che fare con l'architettura e l'obiettivo in realtà come ci dice in questo passo è quello di aiutare a conoscere e giudicare di persona e aiutare l'imperatore ma non solo appunto l'imperatore tutte le persone a cui si rivolge in questo trattato aiutare a conoscere e giudicare di persona l'architettura costruita l'architettura di futura realizzazione e diciamo qui ci ricolleghiamo anche a quello che diceva la professoressa Picarelli poco fa rispetto alla necessità e alla stretta connessione tra teoria e pratica che c'è in tutti i trattati che insomma vedremo in altri casi in alcuni casi è molto evidente e quindi poi ne parleremo nel corso diciamo della comunicazione perché ci saranno delle parti in cui questa descrizione e questo riferimento all'architettura costruita sarà sicuramente palese e molto evidente ci sono delle parti invece in cui questo riferimento costituisce la traccia per costruire un sistema teorico più ampio quindi partiamo dalla nostra traccia la possibilità di guardare attraverso l'indice di questo trattato sappiamo che questo trattato è diviso in dieci libri nel primo libro Vitruvio affronta una parte legata alla formazione dell'architetto affrontando anche dei principi basilari ai quali si appoggia per costruire diciamo il suo sistema teorico è un capitolo il primo capitolo un capitolo in cui si ha la possibilità diciamo di avere un ampio spettro di argomenti successivamente nel secondo libro l'approfondimento è sulla nascita dell'architettura legando la nascita dell'architettura anche strettamente ad alcune delle caratteristiche principali legate ai materiali da costruzione nel terzo nel quarto libro l'informazione invece si e quindi la sua disquisizione passa alla comprensione dei tempi delle loro tipologie degli ordini e delle leggi proporzionali nel quarto libro si parla degli edifici municipali no scusate nel quinto libro si parla degli edifici municipali prestate attenzione a questo quinto libro perché ci ritorneremo e quindi parla sostanzialmente degli edifici civili nel sesto l'approfondimento è sulla casa la casa privata e quindi tutte le sue le necessità legate alla costruzione di uno spazio per l'abitare nel libro settimo affronta i colori e quindi la tipologia di colori come applicarla e come utilizzarla all'interno della pittura parietale e come applicare la teoria dei colori nel libro ottavo l'argomento si sposta sull'utilizzo dell'acqua e quindi la costruzione degli acquedotti nel libro nono c'è quasi una teoria diciamo cosmologica legata anche all'architettura un quadro scientifico all'interno del quale Vitruvio ritiene che l'architettura abbia un posto una collocazione molto importante nell'ultimo libro l'approfondimento è quello legato alle macchine e alla meccanica quindi a questo punto andiamo diciamo a leggere insieme attraverso questa prima traduzione una traduzione un'edizione del 1758 tradotta in italiano di questo libro e proviamo a scorrere diciamo all'interno del libro e a leggere delle parti che insomma all'interno di questo indice sono rilevanti all'inizio del primo libro cosa sia l'architettura e cosa debbano sapere gli architetti e in questo passo del testo c'è sicuramente un programma anche formativo che Vitruvio fornisce rispetto al tema della formazione dell'architettura e quindi una serie di raccomandazioni per tornare all'ultimo passaggio della parte della professoressa Ficcarelli che mi ha proceduto una serie di raccomandazioni per l'architetto rispetto a tutto il bagaglio di conoscenze che deve costruire nella sua attività nella seconda parte e quindi nel secondo capitolo invece l'approfondimento è su alcuni concetti teorici fondamentali che Vitruvio ritiene possano descrivere l'architettura sono alcuni concetti che in realtà determineranno un corso nelle teorie dell'architettura successive che ancora non si è esaurito parliamo di alcuni termini nella cui definizione ponendosi in una posizione di parziale di parziale antitesi o comunque di discussione critica alcuni dei più importanti trattatisti hanno costruito il loro impalcato teorico quindi nella prima parte nel primo libro l'approfondimento è su questi temi fondamentali legati appunto alla teoria vera e propria e quindi alla costruzione diciamo di un sistema teorico nel secondo libro come vi dicevo l'argomento invece sono l'origine della costruzione dell'architettura l'origine delle fabbriche e quindi i materiali da costruzione e poi nel terzo capitolo invece Vitruvio ci parla delle tipologie di templi e quindi della costruzione dei templi stessi dando anche attenzione nel quarto capitolo a un argomento che ancora una volta troveremo come un filo conduttore all'interno dei trattatisti che è quello della costruzione dell'ordine l'ordine che viene appunto inteso come un grande sistema di riferimento per la costruzione degli edifici un grande sistema che permette di riconoscere allo stesso tempo i caratteri e le tipologie degli edifici ma anche che permette appunto di costruire il proporzionamento corretto di questi stessi edifici nel quarto capitolo affronta la costruzione del foro e all'interno di questa descrizione si concede un passaggio che vedremo diciamo in seconda battuta che è legato alla descrizione di una sua opera costruita Vitruvio ci dice all'interno di questo testo che la sua architettura non ha non ha avuto molti incarichi che da un punto di vista diciamo architettonico non ha avuto molti incarichi ma che riconosce diciamo la basilica di Fano come uno dei delle sue opere diciamo meglio riuscite e nel quinto libro affronta anche il tema del diciamo della basilica descrivendo un suo edificio e poi vedremo con quali modalità quindi adesso diciamo scorriamo velocemente il sesto e il quinto e sesto libro per quello che diciamo abbiamo già detto rispetto alla costruzione della casa nel sesto e scusate e invece nella nella parte nel libro settimo appunto legato ai colori e nell'ottavo e nel nono questa teoria diciamo cosmologica nel nono libro che in realtà diciamo mette in connessione l'architettura a un ordine cosmico del mondo e quindi individua anche nell'architetto come dire una figura che è in grado di ordinare dopo diciamo la divinità è in grado di ordinare lo spazio a questo punto quindi prendiamo diciamo alcuni alcune parti di questo trattato nello specifico torniamo alle prime due individua alle prime due i primi due capitoli che Vitruvio colloca all'interno del primo libro nel primo capitolo mi interessava leggervi una parte che ancora una volta ci racconta ci parla della stretta connessione che già per Vitruvio c'è tra la condizione diciamo più teorica della dell'architettura e quindi la riflessione su quelli che sono i concetti teorici fondamentali è invece la costruzione da un punto di vista pratico e quindi Vitruvio dice che l'architettura è una scienza che è adornata di molte condizioni e con la quale si regolano tutti i lavori che si fanno in ogni arte quindi è da un primato da un punto di vista scientifico e dice che si compone di pratica e di teorica la pratica è una continua e consumata riflessione sull'uso rispetto allo spazio degli edifici e invece la teorica riguarda la necessità di dimostrare e dar conto delle opere fatte con queste regole e quindi con le regole della proporzione e con il raziocinio quindi Vitruvio riconosce subito questa duplice componente dell'architettura e la necessità di tenere insieme questi due elementi per la costruzione e per la comprensione di questa di questa scienza di questa disciplina nella seconda parte invece che vi mostro appunto Vitruvio traccia quei la definizione di quei tre fondamentali elementi che avete già sentito in tante in tante lezioni e per questo vi invito a ritornare a questi passi e a rileggere cosa Vitruvio scrive rispetto a la firmitas l'utilitas e la venustas e lo trovate in questo capitolo e quindi insomma vi invito a farlo per conto vostro recuperando anche quanto insieme a gli altri concetti che insieme a questo vengono a questi tre fondamentali vengono descritti che sono appunto la disposizio la simmetria l'euritmia il decoro che sono concetti che appunto la teoria dell'architettura si porterà oltre avanti per molto tempo torneremo su Vitruvio ricordate quel libro 5 in cui Vitruvio parla della sua opera dopo come sapete dopo il periodo romano in realtà Vitruvio per un periodo come dire viene preso come riferimento per alcune architetture ma in realtà molta della riflessione che viene fatta su Vitruvio in questo periodo è piuttosto legata alla sua allo sguardo diciamo medievale volto soprattutto agli aspetti più umanisti del di questo testo e quindi alla riproposizione dei testi classici anche a vantaggio della di questo periodo quindi abbiamo una riscoperta di questo testo che in senso di avvalersi di questo testo anche come uno strumento utile per l'architettura costruita nel periodo fine della fine del Medioevo proto-umanistico quando abbiamo cominciamo a rivedere la diffusione di questo monoscritto da parte di due illustri umanisti Petrarca e Boccaccio che parlano nelle loro opere di questo testo ma diciamo un elemento che interviene a recuperare questo grande patrimonio di Vitruvio è in realtà diciamo un teorico e un umanista del periodo del del quindicesimo secolo che è Leon Battista Alberti Leon Battista Alberti come vedete scrive un trattato che è il De Redificatoria che si divide allo stesso modo come il trattato di Vitruvio in dieci libri il riferimento a Vitruvio si esplica ed estende in molte parti ed è un riferimento che però in alcuni casi appunto riconosce no che nella maggior parte dei casi riconosce a Vitruvio un grande valore in senso di sistematizzazione dei concetti ma in alcuni casi si pone anche in una condizione di critica nei confronti di quanto detto da Vitruvio scorriamo e quindi andiamo diciamo a osservare parte di questo testo e a capire come si articola nella nella sua composizione abbiamo una prima parte che è dedicata al disegno e quindi in realtà assegna a questo strumento un valore fondamentale all'interno della costruzione di una conoscenza per l'architetto nel secondo libro invece affronta appunto la teoria dei materiali e si occupa anche nel quarto libro dell'esecuzione dell'opera di come questa debba essere portata avanti nel quarto nel quinto libro si occupa invece della tipologia degli edifici e di come questi debbano essere organizzati a partire dal sesto libro introduce un argomento fondamentale che è quello dell'ornamento e quindi a partire da questo concetto fondamentale definisce quello che è l'ornamento da attribuirsi agli edifici di culto agli edifici pubblici e agli edifici privati nell'ultimo libro fa invece un discorso per la prima volta legato a quello che è come si debba intervenire nei confronti di un edificio che sia un edificio esistente quindi come si può operare in senso di restauro nei confronti degli edifici anche qui anche qui diciamo questo questo indice probabilmente è un po' più ostico di quello di Vitruvio ma per questo diciamo ho estratto alcune porzioni di questo anche perché è un indice molto lungo quello che mi interessa appunto mettere su cui mi interessa diciamo porre la vostra attenzione è soprattutto il primo libro di questo di questo testo di questo trattato in cui in realtà ehm ehm Neon Battista Alberti mette eh individua diciamo tutti gli elementi che compongono il progetto di architettura a partire da una grande eh attribuendo diciamo un grande valore a l'elemento del disegno come elemento unificatore di tutti questi elementi eh quindi parte diciamo da eh una alcune condizioni eh su come si possano edificare le case e quindi su quali possano essere le condizioni di sito fondamentali più comode e più utile alla costruzione e in questo definisce una eh un sistema diciamo di eh un sistema spaziale che gli permette di passare come dire a una serie di riferimenti progressivamente a a diciamo che approfondiscono gli aspetti della costruzione a partire da la l'ambito più ampio che è quello della regione della regia cioè dell'area di eh approfondimento sostanzialmente all'interno del quale eh si colloca l'opera di architettura fino ad arrivare a l'area e quindi al luogo in cui specifico in cui si eh si colloca l'architettura stessa alla parte della ehm partizio cioè alla parte della della pianta e quindi come si organizza la pianta all'interno di questo eh sistema eh all'interno dell'area fino ad arrivare alla descrizione degli elementi che vedete diciamo in questa ehm in questo capitolo che sono quelli che compongono un'architettura vera e propria il muro il tetto le aperture come si debbano collocare all'interno di questo ehm all'interno di un'architettura definisce quindi ehm un processo che a partire da ehm l'ambito più ampio di ehm considerazione e quindi di approfondimento rispetto a ehm la costruzione dell'architettura raggiunge l'elemento dell'architettura eh vero e proprio come quello delle murature delle mura che circondano un edificio del tetto e delle sue aperture quindi è un grande capitolo che un grande libro che approfondisce da eh tutta tutta la parte eh legata al progetto di architettura tenendole insieme attraverso il disegno e il sistema del disegno nel quale eh Leon Battista Alberti riconosce l'unico strumento che può mettere diciamo in chiaro e quindi può ehm mettere a sistema eh una serie di elementi che costruiscono l'architettura scusate poi abbiamo invece diciamo eh una parte importante eh all'interno di questo trattato si ritrova nuovamente nel nonolibro nonolibro in cui ehm Vitruio in realtà eh approfondisce scusate Leon Battista Alberti approfondisce il concetto della bellezza e dell'ornamento eh valutando e quindi per la prima volta distinguendo quello che è quella che è la forma dell'edificio e questo anche questo sarà un tema che sarà eh cardine in tutto lo sviluppo della eh trattatistica a partire da questo momento ehm distingue quella che è la forma dell'architettura invece da quello che è l'ornamento e quindi eh individuando sostanzialmente nell'ornamento ehm come eh un elemento che si aggiunge alla forma un attributo alla forma eh tanto è vero che all'interno di questo mh di questi capitoli ehm descrive per esempio le differenze che possono esserci tra una casa di campagna e una casa di città penso che questo possa essere un tema che anche nella nella vostra eh esperienza prima esperienza progettuale di quest'anno eh abbiate ehm abbiate affrontato e come effettivamente conviene ehm utilizzare eh diciamo eh delle forme e dei linguaggi differenti a seconda che eh il tema dell'architettura legato all'abitare sia collocato all'interno di una città o in campagna ehm in questa in questo nono libro c'è anche una parte eh importante che invece è legata a gli elementi che Leon Battista Alberti definisce come possibilità come i tre elementi cardini per descrivere la bellezza di un edificio e quindi definisce tre parametri sostanzialmente tre elementi che la definiscono il numerus la finizio e la collocazio vale a dire il numero e sono dei concetti che sono molto eh contemporanei eh rispetto al numero si riferisce a quelli che sono gli elementi ehm costruttivi che si trovano all'interno dell'edificio per esempio ci dice che ehm i sostegni e quindi tutti gli elementi strutturali di un edificio generalmente hanno un numero pari anzi lui dice asserisce che hanno un numero pari e questo da un punto di vista strutturale lo deduce anche dalla natura ma così come c'è per esempio nel caso della della finizio un riferimento alla proporzione moderna e quindi a quello che è il rapporto in termini di misure tra i vari elementi e le varie parti dell'edificio tra lunghezza larghezza e e altezza di un edificio della collocazio invece ehm parla appunto del riferimento tra le diverse parti di un edificio e definisce a un certo punto la simmetria moderna cioè la corrispondenza esatta tra le diverse parti dell'edificio eh rispetto diciamo a un punto che è quello del centro di simmetria o dell'asse di simmetria quindi Leon Battista Alberti diciamo all'interno di questo testo rispetto a quella che è la dimensione pratica di quelli di queste architetture quindi dell'architettura fa riferimento molto spesso a eh lo studio della della classicità si riferisce a questo studio perché invece da un punto di vista ehm diciamo progettuale eh si affida diciamo eh direttamente alla eh alla classicità un altro passaggio eh che diciamo rispetto al tema degli indici eh vorrei fare insieme a voi è quello di eh osservare un trattato che viene scritto a all'inizio alla fine diciamo del quindicesimo secolo all'inizio del del sedicesimo siamo in un periodo in cui eh Vitruvio viene mh sicuramente approfondito in maniera molto molto precisa anche grazie alle numerose edizioni che in questo periodo si diffondono ehm tramite la traduzione del del testo e anche la sua ehm l'illustrazione di alcune parti di questo trattato perché il trattato di Vitruvio ci è arrivato senza eh diciamo la documentazione eh grafica quindi senza disegni da parte dell'autore che pure doveva diciamo ehm averne inserito all'interno di questo trattato quindi anche eh siamo in un periodo di grande attenzione nuovamente verso la figura di Vitruvio ehm Francesco Di Giorgio Martini in questo contesto ehm studia appunto parte con l'incipit dicendo che vuole portare avanti lo studio di ehm dell'architettura classica ma questa volta ehm come dire leggendo criticamente questo studio leggendo leggendolo criticamente attraverso lo studio dei monumenti antichi e attraverso l'interpretazione dei testi che a suo dire ehm come dire ancora non hanno colto il significato pieno di questi di questa grande eredità del passato che è quella della classicità e quindi organizza un trattato che nelle prime parti si rivolge ai temi eh fondamentali per la costruzione e quindi alla alle condizioni preliminari che devono verificarsi per la costruzione alla sua teoria alla teoria dei materiali nel secondo libro approfondisce la costruzione di case e palazzi e in questo in questo caso approfondisce anche le varie tipologie di case eh che rintraccia all'interno del ehm individua come possibilità anche in risposta a determinati eh usi che di una casa insomma eh si possono fare a seconda delle necessità di coloro che la abitano e nel terzo libro invece si concentra sulla progettazione dei castelli in connessione anche con quella con la città con l'organizzazione della città eh nel quinto libro approfondisce questo tema che abbiamo visto eh essere un grande motivo di approfondimento eh in questo periodo storico è quello legato alla proporzione dei templi e fornisce diciamo una chiave di lettura rispetto alla costruzione dell'ordine che è ehm deriva in realtà anche qui da Vitruvio ma eh aggiorna diciamo il sistema di proporzionamento dell'ordine rispetto a delle misure antropometriche e questo è quanto accadrà eh anche successivamente diciamo e probabilmente eh anche in degli autori che saranno oggetto di questa lezione di questa lezione ehm nell'ultima parte invece si riferisce a un ambito di approfondimento che è il suo ambito di approfondimento fondamentale che è quello legato alle forme delle fortificazioni che sono eh un aspetto diciamo eh pratico che Francesco Di Giorgio Martini ha già affrontato in diverse committenze e continua ad affrontare nel caso diciamo del nel suo ambito di approfondimento a Milano eh quindi scorrendo in questo indice abbiamo ehm una appunto la prima parte legata a quelle che possono essere le necessità fondamentali della costruzione per la costruzione e quindi anche le caratteristiche dei materiali guardate come il tema delle caratteristiche dei materiali è in realtà una costante che viene affrontata in tutti i trattati ma ogni trattato individua una collocazione diversa all'interno del suo eh del suo indice in alcuni casi questo tema viene addirittura posto nella prima parte dei trattati e quindi gli viene fondativo rispetto alla alla costruzione diciamo di una anche a volte di una ehm di un riferimento a alla costruzione a delle costruzioni primordiali e quindi alla costruzione diciamo di ehm delle prime delle prime capanne per la ehm per il riparo dell'uomo ma in altri casi invece questa collocazione viene spostata all'interno del trattato a seconda diciamo delle volontà dell'autore delle necessità teoriche dell'autore nella seconda parte quindi di questo testo abbiamo visto che parla eh della sostanzialmente dell'abitazione della casa e adegua questo tema anche alle necessità dell'abitante ehm oltre che dei palazzi pubblici dei palazzi dei principi e quindi non solo dell'organizzazione di una casa eh come dire a seconda dei ceti sociali ma anche dell'organizzazione palazziale quindi in risposta anche a dei sistemi politici che diciamo ehm possono essere eterogenei a cui la tipologia del palazzo deve rispondere ehm quindi nel nel terzo paragrafo nel terzo libro come abbiamo detto affronta il tema dell'ordine e questa volta l'ordine viene e questo diciamo uno dei principali contributi che si deve a Francesco di Giorgio Martini che è il proporzionamento del sistema degli ordini legato alla costruzione della al corpo umano quindi l'elemento che viene preso a riferimento ehm anche alla base di un passo che viene descritto da Vitruvio rispetto alla che voi diciamo conoscerete sicuramente nelle rappresentazioni rispetto al il proporzionamento e quindi alla possibilità di inserire la figura umana il corpo umano circoscrivere alla figura umana la forma di un quadrato o di un cerchio rispetto a questo sistema di proporzionamento a questa sollecitazione che già veniva da da Vitruvio Francesco di Giorgio Martini passa a un proporzionamento che è legato approfondisce il tema degli ordini con questa con questa proporzione poi come vi dicevo c'è invece una parte legata alle fortezze quindi a questo aspetto costruttivo qui c'è un riferimento alla pratica costruttiva molto importante legato è costruito anche con una serie di tavole di questo di questo trattato legato alla costruzione delle fortificazioni quindi l'aspetto diciamo pratico dell'architettura viene affrontato attraverso questa serie di progetti per l'architettura militare e qui c'è ancora una serie di tavole legate a questo tema ultimo passaggio quello di Andrea Palladio il quale diciamo si inserisce in un clima culturale che sicuramente è successivo a quello di Francesco di Giorgio Martini ed è un clima culturale legato anche all'Italia settentrionale ad alcuni autori che insieme a lui diciamo operano nell'Italia settentrionale quindi almeno diciamo in una prima fase lontano da Roma e approfondiscono alcuni dei temi fondamentali per la costruzione teorica dell'architettura alcuni temi fondamentali di teoria dell'architettura scusate Palladio in realtà come prima diciamo operazione fondamentale di conoscenza e di costruzione teorica del suo pensiero si rivolge alla ancora una volta al testo di Vitruvio insieme a Monsignor Barbaro fa una illustra una edizione fondamentale molto importante dell'opera di Vitruvio e quindi interpreta diciamo attraverso i suoi disegni attraverso la le sue opere interpreta e diciamo opere e disegni interpreta anche il testo vitruviano questo passaggio è sicuramente importante per la sua costruzione costruzione teorica che lo porterà poi all'elaborazione e alla scrittura dei quattro libri dell'architettura nel 1570 molto probabilmente il progetto di Vitruvio il progetto di Palladio era quello di ancora una volta scrivere dieci libri come Vitruvio quindi il riferimento ancora una volta in questo caso è quello della costruzione teorica elaborata da Vitruvio tuttavia diciamo i quattro che poi sono stati stampati editi nel 1570 affrontano questi argomenti nel primo libro c'è un approfondimento della teoria dei materiali e quindi della costruzione di un intero edificio abitativo dalle fondamenta al tetto questo ci dice anche ci racconta un elemento fondamentale nella costruzione di dell'approfondimento teorico di Palladio vale a dire l'elemento di approfondire il sistema abitativo e quindi la condizione dell'abitare tanto che al secondo libro nel secondo libro Palladio dedica un intero libro del suo trattato alla descrizione della casa privata in città e in campagna ancora una volta riprende e quindi questo tema che è della del confronto tra quelle che sono le forme di una casa in città e invece quelle che sono le sue forme nel momento in cui deve confrontarsi con uno spazio più ampio di natura che è quello della campagna anche in questo caso diventa un argomento fondamentale per la costruzione teorica di Palladio nel terzo libro affronta invece tutti gli edifici civili e quindi anche qui la forma degli spazi pubblici e delle basiliche nel quarto libro approfondisce i templi antichi e quindi approfondisce lo studio della classicità quindi qui diciamo rivediamo gli indici e come sono stati e come come è organizzato l'indice nel primo libro appunto si affronta anche la teoria degli ordini che diciamo come abbiamo visto è una traccia che attraversa tutti i trattati di questo periodo e diciamo a partire anzi di questo periodo di un periodo molto ampio a partire da Vitruvio fino a l'inoltrato diciamo periodo rinascimentale e appunto nella seconda parte il riferimento invece addirittura alla costruzione diciamo di elementi di architettura come possono essere quelli dell'atrio toscano dell'atrio corinzio che in realtà vengono per la prima volta come dire erano un linguaggio fondamentalmente adeguato agli edifici civili ma per la prima volta in questo caso viene applicato in maniera diretta ed esemplificativa anche al tema della casa qui ancora diciamo il terzo libro è legato piuttosto alla costruzione degli edifici pubblici e qui troviamo un'altra traccia che diciamo approfondiremo tra poco rispetto alla come dire alla postura che Palladio ha nei confronti della sua opera costruita all'interno di questo trattato Palladio non ha timore a prendere come riferimento per esprimere concetti teorici come sono quelli approfonditi nel suo trattato non ha timore a prendere come riferimento le sue opere costruite è qualcosa che attraversa tutto il trattato di Palladio e questo accade sia nella parte legata al secondo libro sulle case ma anche nella parte legata agli edifici civili e quindi alla costruzione di questi edifici all'interno della città quindi ha un atteggiamento di grande approfondimento e studio nei confronti della classicità ma c'è comunque anche l'atteggiamento critico di ritenere di potersi inserire a pieno titolo all'interno dei riferimenti da prendere in considerazione per la costruzione dell'architettura e quindi per il compimento l'unione tra quella parte teorica di cui abbiamo parlato invece gli aspetti pratici dell'architettura ancora il libro quarto dove ci sono appunto dei scritti anche con ricche illustrazioni chiaro questo non è un passaggio che ho detto per scontato con grandi tavole di approfondimento tutti questi che sono i tempi quindi un'altra diciamo traccia che adesso che abbiamo visto come dire questo excursus di trattati possiamo individuare è sicuramente quella legata alla descrizione di queste opere di architettura all'interno dei trattati stessi come abbiamo visto non sempre diciamo all'interno dei trattati vengono descritte opere dell'autore questo accade però sicuramente in un caso fondamentale che è quello della basilica di Fano da parte di Vitruvio all'interno di quel libro quinto in questa parte quindi Vitruvio descrive una porzione della una come esempio diciamo della sua traduzione dei principi architettonici all'interno della dei principi teorici all'interno dell'architettura descrive la basilica di Fano e definisce prima di tutto come prima come prima parte le proporzioni le simmetrie della quale sono le seguenti cioè descrive fondamentalmente come primo aspetto gli elementi proporzionali e di simmetria all'interno di questo edificio definendone la sua organizzazione planimetrica dando anche il proporzionamento rispetto ai sistemi di misura in in piedi quindi si parte dalla condizione diciamo del del livello di basamentale fino a raggiungere il sistema del tetto e quindi come esso è organizzato quali sono gli elementi che lo diciamo che da un punto di vista gerarchico passano da la la parte basamentale fino alla costruzione del tetto e anche quali sono le relazioni che questo edificio ha con le parti limitrofe del foro quindi come si relaziona in termini di aperture e di connessioni per esempio con il tempio di Augusto che si trova in adiacenza alla Basilica o con il tempio di Giove quindi l'approfondimento è tanto sul proporzionamento quanto sulle caratteristiche statiche costruttive dell'edificio ma anche con le sue relazioni con l'esterno come vi dicevo in realtà questa opera scusate non so perché ah ok qui c'è la continuazione di cui vi parlavo sempre legata alla costruzione del tetto in questo caso come abbiamo detto appunto questo trattato è arrivato privo di illustrazioni e questo ha determinato che molti artisti molti architetti a partire molti teorici a partire dal quindicesimo secolo hanno descritto provato a ridisegnare questo edificio quindi tanto Fra Giocondo nella sua traduzione del trattato quanto anche Cesare Cesariano che addirittura ricostruisce anche l'elevato di questo edificio hanno provato a ricostruirlo e questo è divenuto anche un modello che è stato utilizzato successivamente per esempio in alcuni disegni elaborati da Filippo Brunelleschi per la Basilica di San Satiro di Santa Maria di San Satiro a Milano o comunque anche in alcuni casi come quello della Cattedrale di Carpi che è attribuita a Baldassare Peruzzi quindi i modelli della classicità vengono attraverso i trattati studiati ridisegnati e utilizzati per la pratica architettonica del periodo abbiamo diciamo un altro passaggio che è quello appunto di cui vi parlavo prima fatto da Pallagio attraverso nella traduzione per di Monsignor Barbaro che ricostruisce in maniera diciamo accurata la pianta di questa basilica e poi descrive nel suo trattato ancora una volta diciamo un edificio in forma di basilica che è quello della basilica di Vicenza quindi questo tema della basilica attraversa e ci porta attraversa diciamo una serie di trattati anche nella traduzione di Vituvio e ci riporta a un edificio che è costruito come quello di Andrea Pallagio in cui appunto a Vicenza ci racconta che i portici intorno alla basilica furono di sua invenzione e affida gran parte della descrizione di questo edificio ai disegni che ci permettono diciamo di comprendere tanto l'organizzazione planimetrica quanto diciamo il suo elevato è anche diciamo i rapporti proporzionali che intervengono tra le diverse porzioni dell'edificio quindi diciamo questo l'obiettivo di questa di questa parte della lezione è stato appunto quello di rintracciare strumenti e possibili letture che ci permettono di attraversare questo sistema dei trattati cercando di individuarne tanto la connessione tra diciamo temi affrontati e approfondimenti e organizzazione dell'indici quanto invece la la traccia che deriva dalla connessione tra sistema di architettura costruita e parte pratica all'interno di questo e penso insomma che rispetto a questo diciamo la professoressa anche avrà modo di approfondire altri aspetti rispetto a Palladio facciamo il campo sì questa è una scena teatrale quella che abbiamo composto resto un attimo su questa slide ma in realtà per introdurre poi la successiva che fa parte della terza parte che sarà breve perché poi vorrei dare un ampio spazio invece la discussione che spero ovviamente sarà vivace vivace io credo che quello che ci ha fatto vedere Valentina è importante ha una descrizione a partire dagli indici e una capacità come dire di entrare nel merito diciamo di questi trattati non facendo vedere le opere ha sostanzialmente descritto il il senso diciamo della lettura di questi trattati al fine della ricostruzione voi pensate che questa seconda parte questa della Basilica di Fano è una trascrizione di una narrazione cioè viene riprodotta viene ricostruito uno spazio architettonico a partire da una descrizione le due fabbriche riprodotte in Palladio e in Cesareano sono sostanzialmente diverse eppure parlano delle stesse proporzioni parlano dello stesso contenuto parlano dello stesso sviluppo in in altezza e descrivono diciamo la sezione ma che cosa che cosa è successo che il ridisegno seppur partendo da una narrazione esattamente il processo che noi facciamo di conoscenza il la la trasformazione il pensiero diciamo individuale di chi trascrive ha una capacità come dire di andare oltre la pura descrizione e quindi alla fine poi sostanzialmente Palladio costruisce la sua Basilica che altro non è che la Basilica di Fano interpretata è ovviamente costruita secondo i suoi canoni e secondo diciamo quello che lui non deduce da Vitruvio ma sulle basi di Vitruvio si poggia proviamo ad andare avanti allora la seconda parte parleremo ancora una volta diciamo di Palladio e di Le Corbusier come ho già detto prima ambe due sviluppano diciamo le loro teorie all'interno di una conoscenza specifica che è quello delle architetture classiche e di queste loro ne hanno ne hanno contezza Valentina ha accennato al valore diciamo del disegno ma io dico al valore del rilievo ambe due sia appunto Palladio che vediamo nella prima slide dove ridisegna sostanzialmente il Pantheon fanno un'accurata diciamo trascrizione delle architetture antiche rilevandone in ogni parte ma il rilievo non ha un valore fine a se stesso e quindi come una sorta di canto e di elogio ad architetture passate ma da queste architetture loro ne traggono condizioni diciamo di principi e quindi e così come le Corbusier anche lui nel suo viaggio in Oriente lui fa un viaggio insomma superando le famose colonne di Ercole e poi costruirà Ciandigan insomma a seguito di questo ma disegna Pisa disegna Roma disegna anche lui il Pantheon vedete che la trascrizione dei due Pantheon sono sostanzialmente diverse perché ognuno di questi autori sta trovando cercando nelle rovine diciamo dell'antichità sta trovando la propria ragione e la propria la propria condizione diciamo che poi sarà riversata nei loro progetti è chiaro che il Pantheon e Ciandigan hanno una somiglianza come ce l'ha ovviamente il disegno che lui fa per Pisa però non parleremo diciamo di questo e così ovviamente per il Pantheon di Palladio non c'è difficile pensare che questo impianto centrale che è sintetico diciamo dell'universo possa essere rinarrato nella così nella e ovviamente di questo abbiamo voglio solo soffermarmi sul fatto che Andrea Palladio e Le Corbusier le ho scelti perché sono ambedue due autori che hanno determinato il moderno Palladio si inserisce in un contesto medievale dove e mi riferisco in questo caso esclusivamente diciamo alla manifestazione delle chiese quindi al monumento per eccellenza dove quella teoria di mettere in scena lui riesce come dire a trasformare quello che era la chiesa diciamo che era l'edificio di culto nella medioevo nella Venezia medievale una Venezia fatta diciamo di case basse e in legno dove ovviamente la consistenza era una sorta come dire di stare insieme attraverso solo esclusivamente necessità Palladio apre questa architettura la poggia sui podi trasforma l'ingresso assume la trabiazione diciamo come necessaria per interpretare come dire cambia capovolge il paradigma diciamo medievale e diventa così moderno nel senso che trasfigura manifesta un'architettura con un valore altro fa la stessa cosa stranamente e in maniera io credo eccezionale nella cosiddetta villa diciamo di campagna dove anche la villa prende la trabiazione prende le misure diciamo che sono introdotte e lette attraverso gli ordini attraverso la classicità Le Corbusier anche lui fa esattamente la stessa cosa anticipa e fonda sostanzialmente quello che sarà il movimento moderno ma non vorrei essere così come dire scolastica ma è evidente che l'introduzione del cemento armato è un concetto nuovo diciamo dell'abitare e dalle Corbusier non solo analizzato ma ne fa parte dei suoi principi di costruzione tenete presente che Le Corbusier parla di abitare come la macchina dell'abitare attribuendo all'abitare una sorta condizione anche artificiale lo stesso che è un ingranaggio perché attraverso la macchina e l'ingranaggio si dà la definizione come dire di uno stato di necessità cioè che non può essere diversamente e questo per quanto riguarda la struttura e quindi ovviamente Le Corbusier introduce anche una definizione di architettura diversa da quella che abbiamo visto finora la pratica e la teoria sono inseriti nei rapporti cosiddetti emotivi l'architettura che va di là dei fatti utilitari l'architettura è un gioco sapiente corretto magnifico dei volumi sotto la luce quindi ovviamente cominciamo a introdurre anche se volete un argomento legato non solo alla forma diciamo dell'architettura ma anche di come questa si espone appunto alla luce di come si espone alle ombre di come si espone alla vita stessa il trattato il trattato di Palladio l'abbiamo conosciuto il trattato verso un'architettura per me è considerato ancora un trattato nel senso all'interno di questo libro di questo che si può fare ma quello che voglio parlare di Vitcover e scrive questo libro che è importante che si chiama i principi architettonici nell'età dell'umanesimo il Vitcover è un autore che mi serve in realtà per introdurre un altro argomento di quello di cui parleremo diciamo tra poco lui fa è uno studioso un architetto un saggista e un critico diciamo di d'arte e in questo libro lui fa un'operazione particolare assume come studio particolare rilevandone studiandone esattamente come faceva Palladio come ha fatto le Corbusier e Palladio per il Pantheon le bille Palladiane e le assume non tanto nella loro veste come dire di linguaggio iconografico di rapporto con la natura l'insediamento eccetera ma le assume secondo la concatenazione degli spazi che compongono sostanzialmente le figure geometriche sottese al tipo diciamo delle piante e tira fuori diciamo una tavola classificatoria che adesso vi faccio vedere ecco Rudolf è lui e la tavola classificatoria è questa individuando alcune forme fondamentali di proporzione e di contenuto che sono state già richiamate diciamo da Palladio già descritte nel trattato di Palladio e descritte ovviamente non in maniera così sintetica come fa il bit cover e dice Palladio raccomanda sette forme diciamo di ambienti nella seguente successione la circolare la quadrata la diagonale sul quadrato immagina mentre io parlo provate ad immaginare queste figure come si costruiscono perché la costruzione della proporzione è questa la diagonale sul quadrato come lunghezza della stanza quindi la sta immaginando in senso longitudinale quattro un quadrato e un terzo cioè vale a dire tre quarti della figura che abbiamo letto precedentemente cinque un quadrato e mezzo vale a dire due terzi sei un quadrato e due terzi vale a dire tre quinti il doppio quadrato uno a due quindi sostanzialmente l'elenco qui vedete sono tutte le ville paladiane in cui queste figure queste sette figure sono inserite con un'armonia che dipende ovviamente dal posizionamento degli elementi necessari affinché poi questo spazio funzioni quindi la sala centrale e quindi sono tutti edifici che hanno gerarchicamente una condizione di spazio orientativo orientato cioè uno spazio da cui tutto riparte e tutto viene stabilito e che può essere appunto di forma quadrata allungata rettangolare eccetera eccetera ovviamente dietro tutta questa narrazione non dimenticate che c'è la sezione aurea una sezione aurea che vede costruire il modulor di Le Corbusier e vede proporzionare tutti gli edifici di Le Corbusier a partire dal modulor e dalla regola di Fibonacci che sono regole matematiche il doppio del primo e del precedente di una scala di numeri quindi quindi che significa sostanzialmente proporzionare è chiaro che il punto di vista di Witkoven in questo momento è un punto di vista selezionato cioè lui vuole mostrare come i vari spazi le varie forme degli spazi dichiarate proporzionali perché garantite da un sistema diciamo matematico e proporzionale di figure restituisce poi armonia al tutto che cosa succede Witkover è maestro di del successivo autore che è Colin Rowe Colin Rowe scrive un testo che si chiama La matematica della villa ideale interno all'interno di questa assumendo gli studi che aveva fatto il suo maestro che Witkover è ovviamente anche di cultura di formazione illuminista quindi è un razionalista insomma quindi come dire raggiungere la sintesi ma anche spogliare dei linguaggi le varie questioni è un fatto necessario un fatto razionale quindi Rowe fa esattamente assume sostanzialmente il lavoro che ha fatto i Witkover e prova a tenere insieme architetture distanti nel tempo quindi la prima è la malcontenta del palladio che abbiamo visto in quello schema precedente descritto con le sue figure diciamo proporzionali e la seconda è Villa Stein di Le Corbusier come potete vedere i due schemi sulla destra quelli sintetici sono degli schemi che hanno pari proporzioni questi sono alla stessa scala pari proporzioni le parti cosiddette dedicate ai servizi alle scale la capacità di distribuire lo spazio all'interno di queste case è comune e così come per esempio lo spessore che distanzia si vede il mouse si vede lo spessore per esempio che distanzia la struttura di Le Corbusier dalla grande vetrata questo stesso spessore viene riproposto poi nella Villa Palladiana come uno spostamento praticamente della parte centrale questo schematizzare ovviamente ci riporta essenzialmente al valore se vogliamo della trattatistica ma certamente qui vediamo ovviamente il rilievo anzi il disegno di mano di Palladio della malcontenta è la sua vera la sua vera il suo vero prospetto ovviamente la stessa malcontenta in rapporto con la campagna però ripeto questo non è di interesse ovviamente di Kevin Rowe ma l'interesse piuttosto stabilire appunto rapporti armonici tra l'interno adesso vediamo una sequenza degli spazi che abbiamo prima individuato questi sono gli spazi della malcontenta cioè queste grandi aperture che sono gli sbocchi io vorrei tornare indietro a farvi vedere lo schema sono le parti più strette sostanzialmente i famosi corridoi della malcontenta cioè quelli che poi da un punto all'altro si aprono con le con i grandi con le grandi finestre che sono sostanzialmente il rapporto diretto con la natura ecco questi sono i grandi corridoi che arrivano sempre ho una grande vetrata una grande finestra e una sequenza se vedete degli spazi cioè le stanze le figure che sono state proporzionate sono concatenate cioè sono in sequenza una dentro l'altra il loro rapporto di soglia il loro rapporto di comunicazione tra l'uno e l'altro è dato sostanzialmente da un'apertura l'ultima apertura è quella più aulica quella che dà diciamo sulla natura Le Corbusier l'immagine ovviamente del suo prospetto io dico che è al pari diciamo di quello della malcontenta dove vediamo ancora una parte basamentale che certamente non ha il ruolo come nella malcontenta di staccare di ripartire in maniera classica diciamo l'edificio ma individua tutte le questioni di soglie la pensillina l'apertura più ampia la porta tutte condizioni che riguardano il primo approccio che uno ottiene avviandosi verso l'interno diciamo di questa di questa casa il primo e il secondo piano la finestra a nastro individua evidentemente una sorta di pianta libera che non è soggetta alla misura come dire del muro che quando è portante scandisce diciamo con le finestre quindi la pianta sostanzialmente provate a rimettere con l'immaginazione sopra questa pianta lo schema di Kevin Rowe ecco questo diciamo il prospetto questo è il prospetto retrostante dove ancora si conferma il piano basamentale e dove l'oggetto della della rampa come promenade che è una una manifestazione diciamo molto caratterizzante diciamo dei progetti delle Corbusier dove lui attraverso questa grande rampa che è dall'esterno entra all'interno e interpreta gli spazi interni diventano sostanzialmente il modo per narrarla questo è lo spazio invece che si ottiene all'interno della casa diciamo di Le Corbusier ovviamente lo spazio che abbiamo visto interstiziale tra la struttura e la finestra a nastro non fa altro che raccordare sta a girare intorno ad un grande spazio che diventa a volte doppia altezza che diventa libero interpretato ovviamente restituendo quella capacità di risposta tra la struttura e la forma e qui appunto al confronto come vedete il rispetto come se vogliamo diciamo della tradizione della stratificazione classica un basamento per la malcontenta dove le scale arrivano diciamo al piano nobile mentre il primo piano che è quello appunto della soglia per Le Corbusier la trabiazione e le colonne per la villa Stein e mentre le finestre a nastro della villa di Le Corbusier ecco queste sono al pari le due viste cioè come si interpretano sostanzialmente gli spazi quindi ambe due sono quelli che daranno vita sostanzialmente all'architettura cosiddetta ottocentesca che così si dispone e così invece l'architettura moderna che non fa altro che ripercorrere la stessa strada interpretando ovviamente evidentemente in maniera diversa adesso diciamo mi concentrerò questo sono come dire delle piccole occasioni per dimostrare come si può spaziare da un testo teorico vitruviano come costruire l'architetto vitruviano o l'uomo vitruviano e come in realtà poi questa necessità ripercorre tutti diciamo gli architetti in questo caso ci fermeremo diciamo alle corbusier perché tutti gli altri autori sono andati oltre diciamo lo stesso le corbusier sino al contemporaneo e parlando anche di quelle che sono le proprie esperienze allora le corbusier è l'antico in questo viaggio in oriente le corbusier disegna rappresenta rileva sostanzialmente tutto quello che è dell'antichità ma anche dell'antico egizio pensate che la misura del modulore scaturita dalle misure che lui riprende dall'architettura antica pensate che la seduta i 47 è vero che poi sono modulati rispetto alla regola di Fibonacci però è anche vero che sono delle misure che lui rileva dal rilievo quando misura il teatro si accorge che per stare seduti in maniera corretta hai bisogno dei 47 centimetri per non avere le ginocchia troppo troppo in alto troppo in basso e quindi per comunicare ma soprattutto la proporzione diciamo della scalinata dipende dal fatto che stare seduti significa traguardare l'azione che viene svolta al di là diciamo della gradonata e quindi poter con lo sguardo vedere diciamo meglio questo tipo di rappresentazione ma non solo lui fa molto di più nei suoi rilievi soprattutto quando studia l'acropoli di Atene e ci sono delle sue foto vicino ai rocchi per esempio disposti per terra o vicino alla colonna Aldo Rossi e Giorgio Grassi e molti degli autori ripeteranno questa fotografia fatta nella medesima posizione perché quello che si traguarda tra il partenone cioè tra i fili tra l'intercolumnio delle colonne e quello che si vede oltre è quello che disegna appunto in questo schizzo un modo di traguardare l'architettura un modo di traguardare la natura un modo di filtrare la natura il progetto interpreta sempre e continuamente anche i cosiddetti fatti di natura cioè tenere uno schermo come in questo caso anteporre il colonnato per vedere il pantheon significa scegliere un punto di vista privilegiato scegliere di non vedere molti hanno descritto diciamo l'acropoli e hanno interpretato i punti di vista le proiezioni da dove si entra l'ascesa l'ingresso i propilei e quant'altro ma lui sceglie di vederlo attraverso una serie di colonne e quindi di intravedere e di scegliere le porzioni di veduta e questo è fare progetto ovviamente va Pompei ne analizza la casa pompeana capisce il ruolo interpreta perché lo aveva già capito insomma in Ville Savoie il ruolo per esempio della corte una corte che è uno spazio pubblico diciamo per eccellenza intorno al quale si sviluppano diciamo le parti della casa e questa corte non può essere un cavedio questa corte non può essere uno spazio indifferente questo questo spazio è lo spazio del progetto è lo spazio della casa è lo spazio che deve tenere fortemente e coraggiosamente se ce la fa tutti gli spazi che appunto si affacciano su di esso e lui interpreta legge la casa delle nozze d'argento da tutti i punti di vista ne esamina la distanza delle colonne la distanza dell'intercolumnio la distanza dei pati la distanza diciamo di tutte le parti che la compongono quindi io vorrei qui coraggiosamente dire che Le Corbusier era uno che si nutriva essenzialmente di storia anche se la storiografia lo colloca diciamo in quella rivoluzione che vede appunto la tradizione allontanarsi l'analogia qui c'ho una sempre ricorro a Marti Ari nello stesso testo la celli nell'arco dove dice che l'analogia si pone tra l'opera e ciò a cui è destinata fra una forma fisica e ciò che questa forma vuole rappresentare l'architettura che definisce le forme analoghe alla nostra vita Le Corbusier fa una cosa secondo me strepitosa con questo siamo ci abbiamo alla chiusura e quindi vi vorrei rilassare fa una cosa per me straordinaria noi siamo abituati a raccontare la Santa Maria appunto la famosa la Tourette come uno spazio dell'architettura moderna insomma una rivoluzione nel campo se volete dell'architettura certosina dell'architettura dei monasteri cioè dell'architettura che contiene un rituale che è quello appunto della della confraternita insomma del del pensare del meditare e quindi che ha bisogno di una serie di luoghi che sono adatti a fare questo prima di cominciare il progetto per la Tourette lui sempre in questo famoso viaggio scopre il convento di Ema che vedete raffigurato qui sulla vostra destra che è questo e come vedete lui lo analizza nella sezione e nella pianta e e ne scrive è molto bello diciamo il racconto l'immagine che vi ho messo prima è l'opera completa che vi consiglio e anche in biblioteca di sfogliarla l'opera completa è scritta a posteriori ed è classificata diversamente da tutti i trattati a un indice che è datato cioè ha dei gruppi di anni che sono gli anni in cui ha fatto determinati progetti ma se lo leggete cercando e trovando un filo conduttore vedrete che sempre in ogni progetto lui ha un riferimento con una sua memoria che si è sedimentata attraverso questi viaggi attraverso questi rilievi attraverso questo studio attento diciamo delle antichità che seleziona e sceglie di volta in volta quindi non assume la storia in maniera acritica e non l'assume diciamo in maniera storicista insomma seguendo un filologico si le capta lo usa come una specie di repertorio intelligente e di questo fa di Villa Ema Villa Ema è sostanzialmente una certosa si sviluppa intorno a questo grande patio dove ci sono le logge e poi le celle diciamo dei dei religiosi la tourrette è esattamente una corte la vediamo soprattutto vedete il mouse sì soprattutto in questa pianta dove è più chiaro diciamo lo sviluppo della corte interna che è un rettangolo che se voi analizzate è un rettangolo aureo e le celle sono ovviamente ripartite sui tre lati di questo di questa corte e la chiesa diciamo conclude il quarto lato ovviamente come potete vedere alcuni passaggi che sono la continuità per esempio della disposizione della chiesa nelle certose classiche il distacco diciamo della chiesa dal dall'ordine come dire domestico cioè l'organicità classica delle certose vi invito qui a guardarne quella di Pavia la certosa della Padula insomma che fa parte dei nostri territori e di come venivano concepiti come una sorta di cammino continuo dove poter assistere a tutti i processi diciamo della vita diciamo del monastero in continuità Le Corbusier pur adottando uno stesso schema tipologico distingue diciamo le parti e le mette in sequenza non tanto con i rapporti di continuità per esempio una loggia ma introducendo il cosiddetto interstizio cioè che cosa succede tra un sistema ed un altro e qui soprattutto nella sezione questo è evidente c'è lo stacco per esempio delle celle viene recuperato da un basamento da un grande basamento così come succedeva ad Ema che andava sotto un grande basamento che sostanzialmente la parte più intima è la sacristia e la parte la sostruzione diciamo della chiesa tutto questo ovviamente poi espresso in in una corte che che si introduce nel nei livelli diciamo più bassi è una corte che tiene la la pendenza anzi la recupera con una stratificazione a terrazza e quindi esattamente come è successo diciamo nella pur forse semplicità della certosa diciamo di Ema qui vediamo una pagina tratta sempre dall'opera completa questi sono modelli fatti dalle corbusie questa è la pagina diciamo che è descritta appunto sull'opera e qui rivediamo ancora le piante la sequenza diciamo delle piante e soprattutto le sezioni che mi sembrano sempre interessanti ogni volta che le rivisito ogni volta che le rivedo e questa è la tourrette e questa diciamo è oggi diciamo la tourrette questi sono gli spazi interni che se ben ricordate come riesce diciamo a staccare la struttura portante dalla struttura di rivestimento nella villa Stein qui abbiamo esattamente lo stesso processo e questa è una parte della corte interna mi sarebbe piaciuto diciamo farvi vedere le corti delle certose ma lì avremmo poi reso come dire auto troppo significativo questo esempio che invece aveva un altro ruolo io volevo diciamo concludere questa questa comunicazione con alcune dichiarazioni che si tratta diciamo di costruire diciamo ponti della conoscenza si tratta di opporsi al fragoroso rumore della contemporaneità riprendendo una naturale vocazione al silenzio questo lo dice anche e riportare il tutto alla parola del mestiere un modo per porsi all'ascolto all'ascolto l'uno dell'altro e del mondo e non per fare un amadevo comunque fare una cosa autobiografica nei libri che ha citato la professoressa più chiaro ne manca l'ultimo che è questo di cui ora vi leggerò diciamo alcuni pezzi che si chiama Palinsesto architettonico la traduzione di un libro di Campopaesa che gentilmente mi ha concesso diciamo di tradurre e di scrivere una introduzione ma lui ne scrive una alla alla stesura diciamo alla traduzione italiana che invece vi voglio leggere e allora breve nota dell'autore all'edizione italiana in realtà potrei anche chiudere con questo e non leggervi l'altra insomma però casomai lo faccio dopo mentre apriamo il dibattito e dice mi viene fatto l'onore di tradurre nella lingua di Dante questo mio palinsesto architettonico l'idea che mi ha mosso è quella di poter diffondere gli ultimi testi che ho scritto sulla saggezza sul fino al progettare e fare ricerca tutto questo libro parla di come si interpretano i saggi di come lui interpreta i suoi maestri di come interpreta la saggezza e dice alla fine che progettare è un continuo fare ricerca continua ad imparare dice citando un dipinto di Goya il dipinto di Goya è un lui dice un bellissimo disegno conservato a Madrid nel museo del Prado ritrae un anziano con i capelli bianchi e la barba lunga appoggiato su due bastoni pare che questo sia un suo autoritratto perché lo ha fatto nella fine diciamo della sua vita io alla mia età Campo Baesa ha una certa diciamo età senza né barba e né bastone continuo ad imparare e continuo a scrivere e a pubblicare testi come questo e non posso fare altro che dire grazie nel senso che credo che questa citazione di Goya possa diciamo concludere questa questa nostra conversazione e posso concludere questa conversazione sì decisamente sì grazie alla professoressa Figarelli spero di essere stata nei tempi sì siamo sicuramente nei tempi c'è anche spazio per per un eventuale dibattito io appunto volevo ringraziare la professoressa Figarelli per questa lezione che trovo sia proprio la conclusione ideale per un corso di teoria dell'architettura che riprende un po' le fila appunto come dicevi tu stessa Loredana dall'incipit ovvero da questa lezione di Paolo Portoghesi che appunto ha impostato proprio questo rapporto diretto con il libro un contatto fisico visivo ma proprio se vogliamo esperienziale quindi è un circolo in qualche modo che si chiude ringrazio Valentina Avacca che appunto non ho presentato all'inizio lo faccio brevemente adesso che è un dottore di ricerca del nostro dipartimento che ha portato avanti una tesi sul paesaggio cinese in particolare quello caratterizzato dalle tori ringrazio anche lei per questa puntuale descrizione che è andata a fondo appunto nel trattato di Vitruvio che come sappiamo è l'unico trattato prima di Cristo che ci è giunto praticamente integro e che è un po' costituito il riferimento di tutte le teorie dell'architettura non soltanto poi del rinascimento grazie ad Alberti che ha contribuito molto alla diffusione appunto del trattato di Vitruvio e del suo pensiero ma poi delle teorie dell'architettura successive fino ai tempi nostri e qui la prima riflessione per aprire un po' un dibattito che appunto vuole sottolineare come sostanzialmente i trattati antichi oltre che i libri in generale possono costituire hanno sono dotati ancora di una forte carica di attualità per il nostro fare architettura in un'epoca quella contemporanea e di qui lo stimolo ai ragazzi del primo anno soprattutto forse di ripartire proprio da questo da una conoscenza non soltanto dei titoli del contesto storico nel quale appunto i trattati si collocano ma appunto da questo tentativo di andarli a leggere a penetrare attraverso la guida degli indici e poi la lettura dei brani si impara anche a raccontare il progetto che è un tema che abbiamo ripreso più volte anche nel laboratorio di progettazione come si descrive da un progetto con le parole e l'apparato iconografico appunto qui nella traduzione visiva di un pensiero che appunto è descritto innanzitutto con le parole e che grazie alle parole si tramanda di secoli in secoli e giunge appunto fino a noi così come Palladio e le Corbusier hanno ricercato nelle rovine dell'antichità disegnando il pantheon per esempio le ragioni dell'architettura allo stesso modo credo che oggi possiamo ricercare appunto nell'antichità quindi nelle forme dell'architettura antica come quindi anche all'interno degli stessi trattati la ragione del nostro fare del nostro del nostro progettare da lì penso che dobbiamo ripartire con voi innanzitutto studenti del primo anno che appunto dovete imparare a fare il progetto e quindi è necessario è importante non partire da una tabula rasa ma costruire il vostro bagaglio di conoscenze proprio attraverso i libri la lettura dei libri in generale quindi non soltanto dei trattati e quindi l'invito che già vi ha rivolto la professoressa Figarelli a costruire proprio la vostra biblioteca che vi accompagnerà nel tempo per tutta la vostra formazione ma anche oltre perché è bellissima questa conclusione affidata alle parole di Campobaese il progetto è un continuo a fare ricerca quindi se vorrete fare progettisti il vostro lavoro di ricerca non finirà di certo con il vostro percorso di laurea su questi banchi quindi dopo insomma queste brevi considerazioni io vorrei lasciare la parola agli studenti innanzitutto alle loro eventuali domande osservazioni come anche i professionisti che insomma vedo presenti sempre numerosi e che ringrazio appunto per la loro partecipazione ho chiuso con l'immagine di Corbusier perché mi sembrava doveroso ci sono delle diciamo delle conclusioni che sono schematicamente rappresentate in tutti i passaggi di questa comunicazione e in coda ci sono una serie di testi che sono tutti contemporanei sulla teoria che lascio a disposizione perché è una buona bibliografia da cui sicuramente ripartire per ampliarla per renderla sempre più disponibile come una sorta appunto di piccolo bagaglio che ci portiamo dietro io nel frattempo che i ragazzi prendono coraggio come di solito poi alla fine riescono sempre a fare per insomma animare anche un breve dibattito leggo qui in chat un messaggio di Giuseppe Teseo è il professionista che ci sta seguendo evidentemente in remoto e scrive desidero rivolgere il mio grazie alla professoressa Ficarelli per l'illuminante comunicazione sul rapporto tra teorie e prassi dell'architettura ma soprattutto rivolgendo analogo ringraziamento alla coordinatrice professoressa D'Urchidulo per l'arricchimento culturale offerto con il ciclo delle lezioni magistrali svolte ad oggi siamo noi sono io in particolare che ringrazio voi che ci seguite con costanza sempre ripeto numerosi in remoto e credo che la più grande soddisfazione sia questa per me personalmente insomma organizzare come potete immaginare un ciclo di giornali così dentro di appuntamenti anche solo logisticamente molto complicato e quindi la mia più grande soddisfazione è la vostra presenza la vostra partecipazione perché è un po' sentito di aver raggiunto l'obiettivo cioè quello di aver avuto aprire le pareti della nostra scuola appunto del territorio quindi insomma parlare di architettura oltre con i vostri studenti con i nostri studenti anche con voi architetti colleghi è stato sicuramente arricchente per i nostri studenti ma anche per me stessa quindi sono io che vi ringrazio c'è il professor Matteo che chiede la parola Matteo può dire il tuo microfono e anche con la webcam se vuoi così ti chiediamo se non accendo la webcam ma sono in movimento e in una posizione un po' particolare infatti mi scuso anche per non aver assistito a tutta la si mi sentite voi ora si avevamo l'audio dicevo mi scuso se non attivo la webcam ma sono in movimento infatti avevo detto alla professoressa Figarelli che aveva avuto qualche difficoltà a seguirla dall'inizio e così è successo ho però potuto assistere a quest'ultima parte e si è trovato insomma questo sfondo critico su cui la professoressa Figarelli ha costruito un po' questa analogia fra passato e diciamo presente moderno che insomma trovo assolutamente efficace certo Le Corbusier è stato un personaggio fondamentale per come dire un lancio verso il futuro dell'architettura al momento in cui ha iniziato ad operare e come accade sempre un po' per tutti i pionieri ci sono delle idee diciamo proprio così lanciate in maniera anche vigorosa in guisa di manifesto che trovano applicazione efficacia ma altre e questo accade in tutti i campi anche della scienza altre che sono anche in parte un po' destinate a fallire concordo la la Tourette è una delle opere interessanti sarebbe anche sbagliato dire molto interessanti di Le Corbusier e il rapporto con la storia è assolutamente evidente come metteva in evidenza la professoressa Figarelli quindi io trovo che la sua figura sia fondamentale andrebbe forse oggi anche un po' riletta alla luce diciamo anche di un aggiornamento di visione rispetto al passato anche perché la mia generazione ma credo anche quella della professoressa Figarelli ha vissuto la stagione raccontata di quella modernità spesso attraverso un'operazione diciamo ottusamente selettiva e allo stesso tempo selettiva che da una parte metteva le persone che riteneva essere i maestri dell'architettura dall'altra c'erano quelli che erano un po' i relitti di una certa sperimentazione quindi io penso che appunto queste figure dei maestri sono importanti come il musee ci sono i Vatican Wright Céminis ma lo sono ecco in questo dico questi relitti messi lasciati un po' a riva dalla storia anzi dalla storiografia ufficiale sono quelli della modernità italiana non c'è dubbio che la modernità italiana ha dato un contributo fondamentale i vari piacentini moretti terragni insomma tutta quella generazione ha costruito una modernità che è stata non pionieristica come appunto lo stesso Persner diceva allo stesso modo di Le Corbusier ma senza dubbio molto calata nella realtà italiana nell'italianità come la definisce Purini e quindi penso che insomma questa adesso questa relazione un po' più stretta vada fatta e questo chiedo anche alla professoressa Ficarelli cosa ne pensa perché per esempio Le Corbusier ripeto resta per tutti un maestro che ha portato molto in avanti l'asse diciamo anche delle ricerche temporalmente l'asse delle ricerche facendo sperimentazioni che erano quasi una specie di futuro necessitato alcune come appunto dicevo come accade spesso non si sono realizzate ma soprattutto alcune realizzate in parte sono un po' fallite per esempio un pezzo del piano V per Algeri è stato realizzato io l'ho visto e devo dire che insomma questa strada abitata non è stata accettata bene dagli algerini perché insomma c'è un monoaffaccio delle abitazioni le macchine che passano da sopra e questi grossi edifici che contengono molta gente scavati messi all'interno di grandi gole non hanno visto il consenso un grande consenso da parte degli abitanti anche perché insomma raramente vedono la luce quindi è chiaro che ci sono come pure anche questa espressione di questo gioco dei volumi sotto la luce c'è qualcosa che detta da lui che è stato anche un grande artista perché Le Corbusier parte dall'arte come sappiamo e quindi ha anche questo sfondo che va oltre l'architettura ecco espressa da lui questo modo di definire l'architettura è certamente diciamo una componente poetica però se andiamo a guardare bene non è una critica ma è qualcosa che secondo me diciamo il tempo che ha visto dopo riprendere diciamo un po' le visioni generali che riguardano l'architettura ha corretto in quell'espressione se dobbiamo considerarla come l'emblema del significato dell'architettura manca la componente dell'essere cioè quella che appunto l'esistenzialismo Heidegger a un certo momento hanno messo all'interno proprio di questo circuito di riflessione non è solamente l'osservazione sul sul gioco dei volumi sotto la luce ma c'è l'uomo c'è l'essere che partecipa di questi con la sua anche interpretazione e con la sua componente anche di condizionamento di questo mondo che non è solo quello dell'autore che produce ma anche di chi vive la realtà costruita ecco quindi appunto un po' questo volevo sapere dalla professoressa Ficarelli cosa ne pensa proprio del fatto che oggi bisognerebbe un po' rimettere in gioco il ragionamento sui maestri che sono senza dubbio diciamo quelli che la storiografia ufficiale ha trasmesso e che nessuno di noi ha motivo di contraddire però ecco pensare anche a questa componente di integrazione dell'italianità grazie mi scuso per non aver seguito dall'inizio ma avevo un impegno avvertito la professoressa grazie a te Matteo Redano se vuoi prendere la parola esatto posso no io volevo solo diciamo precisare una cosa ma piuttosto agli studenti insomma poi con Matteo ovviamente una discussione più più alta io ho scelto questi due autori perché proprio perché sono ambedue problematici problematici nel senso che inseriscono e ti fanno ragionare su tutta una serie di questioni nessuna di queste questioni assolve l'uno e l'altro e nessuna di queste questioni è definitiva quindi sono d'accordo insomma le definizioni le corbusieriane soprattutto quelle che si riferiscono alla luce per quanto io le condivido le condivida nella nella misura che io insomma i maestri noi li interpretiamo come dire fatemi dire questa cosa tra virgolette li usiamo io credo che il progetto non individuale perché il progetto risponde sempre a delle esigenze si rivolge a una collettività cioè il progetto è per tanti ed è fatto casomai da un pensiero da un solo pensiero è colui che lo gestisce ed è trasformativo per cui io decido nello spazio progettato quanta e quale e come la luce deve entrarvi e lo decido proprio nel in quel fare ci sono delle descrizioni adesso per dire di Campo Baeza sulla banca lui ha costruito una banca in Spagna sulla dimensione del cassetto nato perché questo cassetto nato che copriva una grande un grande spazio con delle colonne insomma enorme di alabastro eccetera questo cassetto nato aveva una dimensione il primo troppo alta troppo larga affinché la luce del sole i raggi solari non ne entravano mai all'interno diciamo così come lui avrebbe voluto all'interno di questo grande spazio e la luce che voleva che entrasse in questo grande spazio doveva essere una luce che avesse un ritmo quindi attraverso ovviamente la costruzione dei modelli lui parla dei modelli sulla mano e dei modelli in cui ci entri questo lo dico a voi il modello nella mano serve sostanzialmente a vederne l'unità il modello che ci devi entrare e poi con l'uso di altri strumenti che sono la foto eccetera indaghi sulla condizione diciamo dello spazio lui attraverso questa e ovviamente con gli strutturisti con tutte le componenti diciamo ovvie diciamo per l'esecuzione di un progetto lui riesce a capire che la riduzione del passo di questo cassetto nato e dell'altezza consentiva di avere questo tipo di luce quindi in realtà come le Corbusier lui decide qual è il volume da mettere sotto la luce e decide anche com'è questo volume se è una sfera la luce è una cosa particolare cioè tangente adesso quindi i fatti della geometria i fatti fisici il fatto che la luce stiamo parlando ovviamente di luce naturale perché se poi parliamo di luce artificiale l'argomento il ragionamento cambia completamente andiamo verso altro parliamo della luce naturale una luce che comincia a est e finisce a ovest adesso l'ho sbagliata ovviamente il senso della luce non l'ho detta giusto e quindi sono delle luci diverse cioè alcune architetture si leggono per la capacità della luce che ha di rappresentarle vi racconto questo episodio ma non per allungare se ci sono delle domande io mi fermo poi per me ve lo dico dopo Palmira no vi dico questa cosa perché è molto bella insomma anche perché vi deve appassionare cioè l'architettura è una cosa che deve appassionare ci dovete credere Palmira è un luogo che si trova nel deserto del del Sara ed è un chilometro sono sì due chilometri di un colonnato questo colonnato è snodato da un elemento che si chiama tetrapilo posto al centro che di fatto ne muove la sua estensione longitudinale è una strada una strada carovaniera una strada che si è il vivo ovviamente all'entrata e trionfali verso l'arco di trionfo o attraverso l'arco di trionfo poi ci sta il ninfeo insomma c'è tutta una serie di cose questo questo colonnato è ovviamente strepitoso perché sta in un'area archeologica le più belle al mondo insomma appena ci liberano diciamo delle guerre insidiose siriane o egiziane si può tornare a visitare a Pamea insomma che sono le cosiddette architetture di tappa di cui ho fatto riferimento prima la processa Turchia Rulo nel mio libro Caravanse Valli insomma la cosa curiosa era che io ero là con degli studenti con uno stage con gli studenti e una tesi di laurea quindi situazione che voi vivrete da qui a quattro anni e non ci spiegavamo perché tutti la mattina alle quattro si alzavano e andavano ma dove vanno alle quattro di mattina poi insomma il problema qual era è che seduti sul tetapilo che era alto un metro e settantacinque dalla zona di terra si aspettava l'alba perché l'alba faceva una luce particolare radente in cui le colonne erano interamente proiettate sulla superficie della sabbia vi assicuro che è uno spettacolo da cui non uscite se non traumatizzati e capite quanto è importante se tornate al tramonto questo avvia colonnata che è fatta di colonne intercolumio per un chilometro sempre le stesse cambia completamente e cambia completamente se siete tra le colonne dentro le colonne dentro la passeggiata sul tetapilo verso verso l'arco di trionfo quattro elementi stanno ma vi assicuro che è un'architettura straordinaria straordinaria non so se ho risposto diciamo sì allora io darei lo spazio agli studenti avevo visto due mani alzate c'era Alessandra vieni ti avvicini ti lascio il mio posto così puoi utilizzare il microfono nel frattempo rispondo a Francesco De Benedetto che chiede se le lezioni si possono riascoltare anche su YouTube in asincrono certamente sì quindi andando sul canale YouTube del Politecnico c'è una playlist che prende il nome dal titolo del seminario Pensare all'architettura dove ritroverete già disponibili tutte le lezioni compresa quella di oggi che potete ascoltare riascoltare quando vorrete vieni Alessandra buongiorno grazie per questa lezione è stata molto interessante più che altro volevo fare una domanda per un percorso personale sia lei che la professoressa avete parlato di una propria biblioteca che si deve creare secondo lei se si dovesse trovare un architetto con degli ideali diversi dai nostri dovremmo proseguire comunque quello studio oppure è preferibile lasciare per trovare qualcosa altro dato che comunque è un grande mondo dove andare a studere tutto è impossibile quindi è meglio dare spazio per chi è più affine a noi o anche dare una possibilità a chi non ha le nostre stesse ideologie ecco non so se sono stata chiara no c'è stata chiarissima è un argomento che ti inseriscono in alcuni percorsi entro i quali puoi rimanere bloccato o poi di questo avendo come dire imparato acquisito anche un metodo diciamo di sviluppo puoi andare verso l'altro adesso io quello che posso fare è descrivere la mia esperienza che ovviamente non ha nulla di universale ma è un un percorso possibile cioè la mappa che io mi sono costruita già dalla dall'università ho scelto il tipo per esempio allora da noi era libero l'accesso ai corsi e mi sono scelta quei corsi che guarda banalmente stimolavano la mia curiosità e la mia capabilità più non comprendevo e più insistevo quindi fuggivo da quei corsi dove la facilità anche se volete dell'esame è spesso è così ma anche probabilmente la facilità che è data da una propria attitudine quello lo so fare meglio io fuggivo e ovviamente facevo anche l'esame insomma ci mancherebbe e quindi questa resistenza ha creato la mia prima biblioteca il mio primo i miei primi libri che ho acquistato le prime che poi erano delle fotocopie insomma dall'inizio io ho studiato quando non c'era ovviamente tutta questa quantità di informazione di internet e quindi vi assicuro che i progetti noi per poterle analizzare altro che ridisegno in pinterest avevamo delle immagini piccole così e dovevamo fare gli ingrandimenti e si sgranava e quindi la ricostruzione era quella che credo che vi ha fatto fare anche la professoressa Turgiarulo cioè da proporzione prendi un elemento lo riconosci e puoi scalare quindi questa era l'analisi ma detto questo però c'erano un mare di testi tanti testi teorici io ho avuto la fortuna di studiare con i maestri come Giorgio Grassi come Aldo Rossi come Antonio Monistiroli ma anche con la scuola napoletana Luigi Bisciotti insomma Dante Rabitti che sono vi sto dicendo più o meno la collocazione geografica perché la collocazione geografica è importante perché si sedimentano come dire i gruppi i raggruppamenti di pensiero ed è giusto che uno li affronti dopodiché io credo di non essere rimasta né nella cosiddetta teorica tendenza né ho sviluppato un antagonismo rispetto a questa ma certamente venire in questa scuola io mi sono formata tra Pescara e Napoli atterrare in una scuola barese dove fino a pochi anni fa come dire era la scuola che ci riconoscevano in Italia nel mondo della cosiddetta pietra cioè dove davamo un ruolo alla dimensione dell'architettura muraria l'architettura organica davamo una sorta come dire di risposta e di riconoscimento attraverso la quale poi ognuno di noi l'ha interpretata per esempio io ho usato sempre questa edizione per riconoscere la misura del concio come misura minima del proporzionamento come vedete sto facendo un viaggio adesso di nuovo a ritroso riprendo quel modulor che per me diventava invece lo studio delle architetture tradizionali e ne costituivo la ricchezza diciamo del muro che ovviamente si articolava per statica e per condizione formale si articolava secondo un problema di discontinuità quindi lascia la tua mente per un momento diciamo andare voi non ce le avete ancora le famiglie voi adesso avete le informazioni per poter far diventare queste informazioni una conoscenza le dovete inserire in caselle precise che sono le tue e non le mie e attraverso questo ci sarà una naturale concatenazione o una naturale contraddizione che ti porterà a crescere a crescere sempre a imparare sempre e non fermarsi rispetto alla norma mai c'è le colonne di Ercole spingile sempre più avanti infatti mi sono trovata a leggere altri mesi come Ulisse spiaggia mi sono trovata a leggere per usare le metà dove diciamo che allora fai una cosa leggiti per capire bene come si formano le famiglie Marti Ari è uno spagnolo e non ha niente a che vedere con la scuola italiana non si è formato ha avuto soltanto cioè soltanto ha avuto in un periodo della sua vita una corrispondenza con il tecnico di Milano e con l'Italia leggi la centina e l'arco e capirai molte cose di come invece per noi Marti Ari è diventato un maestro va bene grazie certo l'avevo già segnato quindi era già in programma grazie perfetto grazie c'era un'altra domanda prego c'è un'altra domanda l'interessa io le potevo chiedere più di altro per quanto riguarda i trattati perché come abbiamo visto con l'espressione dei trattati anche con le loro tematiche spesso affrontano anche se c'è un'altra domanda delle professore che spesso ci viene anche detto quasi tutte le volte che si parla di architetura i trattati si andranno quasi essenziali sia per un sviluppo di una teoria della architetura amante dell'architetto se secondo lei mi chiedo se in un momento dovessimo immaginare questi trattati non ci fossero mai esistiti secondo lei sarebbe possibile avere l'architettura e soprattutto se l'architettura di oggi fosse qualcosa che c'è in un modo uguale a quella che ci circonda adesso oppure differente insomma ho tempo per un'altra lezione mi sa di no provo ci provo e ho detto Maria Angelo ho tempo per un'altra lezione io mi stavo preoccupando del ritrofo che si sente non si sente è aperto a me è aperto allora come abbiamo il tempo io credo che il fatto che Vitruvio abbia deciso di trascrivere un trattato è stato ovviamente per noi un modo se volete anche agevolato perché ci ha portato per mano se non lo avesse fatto la cultura da sempre è stata tramandata anche in maniera orale ma non solo le architetture che lui cerca di descrivere erano già costruite io credo che la teoria non possa non essere fatta sulla sull'analisi sul commento sulla visione del reale noi ancora oggi ieri siamo andati a Roma ancora Roma legge quella che erano i i suoi la sua stratificazione classica e la legge in tutte le maniere cioè quasi che la Roma la soffoca e poi riaffiora dico questo perché tutta la storia dell'architettura è letta bisogna leggere in maniera stratificata dove Vitruvio l'Alberti non fanno altro che come dire aggiungere una spiegazione a quanto già esiste dal momento in cui gli uomini hanno deciso di adesso questo lo diceva Portoghesi il fuoco è stato forse non era proprio Portoghesi era Triscioglio Rovagna non lo so forse qualcuno di loro il fuoco l'architettura inizia con il fuoco ed è vero addirittura Aldorossi diceva che l'architettura inizia quando l'uomo esce dalla caverna costruisce il suo primo ricovero diciamo con però quando introduce in questo mettersi la copertura sulla testa quando a questa aggiunge un'istanza estetica solo allora nasce l'architettura perché si avvarrà del sistema come dire ogni architettura insomma come dire rappresentativa di una propria società rappresenta una collettività e un senso positivo non ha una negatività quindi non è destinata a scomparire e quindi se Vitruvio non ci fosse stato adesso per semplificare ci sarebbero state le sue opere cioè ci sarebbe stata forse una basilica di Fano in Rudere dove ci sono ancora quello che vi ho descritto prima come architettura di Palmira stiamo parlando di un'architettura romana stiamo parlando di un'antichità eppure ancora esiste quell'architettura ancora ci fa parlare di essa ma non è trascritta da nessuna parte cioè tu non la trovi nel trattato il trattato è un modo per fissare delle condizioni e ogni trattato come vedete legge ha priorità una cosa anziché un'altra questo di fatto costituisce differenza nell'esecuzione e costituisce differenza anche in quella famiglia che voi dovete costruirvi io per esempio per come sono fatta io non inizierei mai il mio indice dai materiali seppur necessari utili e corrispondenti alla verità della forma di questa architettura ma certamente comincerei dallo spazio dalla forma dello spazio dal tipo di spazio dalla gerarchia che questo spazio ha e da che tipo di rapporto deve avere questo spazio per compiere l'opera finita va bene secondo me saremmo arrivati qua perché abbiamo inventato la ruota dopo e abbiamo inventato e poi c'è stata la capanna e poi c'è stato l'intreccio e poi c'è stato il ricovero sovrano e poi e poi c'è la collettività in un tanto senso comunque saremmo ritornati sempre qui cioè perché alla fine tu sono scelta qualcuno poi a un certo punto forse dopo Vitruvio avrebbe comunque sentito questa necessità e la scrittura è sempre stata voglio dire la parte l'altra parte dell'architettura come per l'arte insomma va bene grazie mille insomma è lunga la risposta però c'è un'altra domanda di un altro studente Gianni avevi chiesto la parola nel frattempo leggo altri messaggi in chat ovviamente mi associo ai complimenti del collega Giuseppe Tesio sull'importanza dell'iniziativa del corso della professoressa Turchia Rulo e sulla lezione odierna grazie di nuovo a voi è stata una lezione scrive Gloria molto interessante complimenti e grazie prego sono pensieroso per cose miele oh no ci mancherete senta no mi ricollego a Vitruvio e all'opera Vitruviana così stavo pensando per gioco se la costringessero a integrare l'opera di Vitruvio con un undicesimo libro lei lo dedicherebbe alle barriere architettoniche assolutamente no ci sta certo sai perché ovviamente mi perdoni lei fa riferimento no fa riferimento all'abbattimento all'abbattimento perché in sé per sé le barriere architettoniche sono mi perdono cosa questa ma aveva il problema è attenzio ma di più quell'avola quindi il modulo risponde già questo discorso questa domanda è una disposizione di giudizia quindi migliorano per tutti insomma bene grazie cioè non come sovrastruttura aggiunta ma come già un pensiero che nasce nel momento in cui nasce il progetto il pensiero è già orientato verso la disposizione dello spazio e caratteri d'architectura ad accogliere insomma tutti indistintamente quindi come qualità spaziali non Grazie a tutti. Se è pensata con una certa ragionevolezza sin dall'inizio. Ci sono altre domande? Mi sembra di no. Nella chat non vedo altre mani alzate. Sì, ce n'è una, non la vedo. Dov'è? Ah, Antonio. Antonio, prego, apro il microfono, ci provo perlomeno. Vedo la sua mano alzata. Antonio Trama Cera, spero di aver pronunciato bene il suo cognome. Ho visto la sua mano alzata, se vuole intervenire può aprire il microfono. Forse è stato un errore? Bene. Io allora chiuderei qui questa seconda edizione del ciclo di seminari Pensare all'architettura. Ringrazio ancora una volta la professoressa Loredana Ficarelli e l'architetto Valentina Vacca. Con l'augurio appunto di ritrovarci tutti presto in una terza edizione, magari l'anno prossimo. Vorrei anche ringraziare la tutor di questo corso e anche del laboratorio di progettazione dell'architetto Anna Zecevic per la sua preziosa assistenza. Tutti gli studenti e insomma un grazie anche, come dicevo prima, ai professionisti e ai colleghi architetti che ci hanno seguito con costanza in tutti gli incontri di questa edizione. Un saluto e insomma spero a presto, alla terza edizione. Arrivederci e grazie.